giorni complessi per i centri vaccinali dell'agro che pian piano riaprono dopo la pausa delle festività di capodanno inevitabile l'afflusso di utenti pronti ad effettuare dosi booster a san valentino torio giornata dura per il centro vaccinale di via dontonino bello che ha dovuto far fronte ad un enorme afflusso di persone tanti vaccini somministrati ben 400 c'è stata attesa qualche disagio affermato il sindaco michele stranese voglio ricordare che i nostri volontari ce la mettono tutta ed anche durante questo periodo festivo sono al lavoro per la nostra comunità e per tutelare la salute pubblica da oggi si accederà al centro su convocazione a seguito di prenotazione sulla piattaforma regionale sono ora 154 i casi attivi nella città degli innamorati che raggiunge l'85 per cento di cittadini immunizzati con prima dose il 68 per cento con seconda ed il 21 per cento con terza dose corbara si conferma comune virtuoso sul fronte vaccini con il 93 per cento di prime dosi effettuate 77 per cento di seconde dosi ed il 47 per cento di terze dosi il centro vaccinale al palazzo di vetro riaprirà da domani fino a sabato dalle 9 alle 13 dalle 14 e 30 alle 18 ad eccezione del giovedì dalle 9 alle 13 solo e soltanto per questi giorni sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione a partire dal prossimo lunedì 10 gennaio infatti si procederà secondo l'ordine di prenotazione sulla piattaforma regionale nel pomeriggio del 14 gennaio cominceranno le attività di vaccinazione dei bambini da 4 agli 11 anni pagani stabili all'80 per cento di prime dosi 66 per cento della popolazione effettuato il richiamo mentre il 22 per cento effettuato la terza dose il centro vaccinale di vie carmine riaprirà il prossimo 7 gennaio tempo utile per permettere ai responsabili dell'asdra di migliorare il servizio il comune ha fatto sapere che a caso della situazione di forte criticità che si sta riscontrando per l'acuirsi del contagio da covid non riceve più aggiornamenti dal dipartimento di prevenzione del distretto asle dallo scorso 10 dicembre quando i positivi a pagani erano 64 supera il 90 per cento di prime dosi il comune di rocca piemonte con l'80 per cento di seconde dosi del 31 per cento di terze dosi qui attivo il centro vaccinale in via della pace alla frazione san potito dove vengono effettuate vaccinazioni con cadenza settimanale lab riaprirà il prossimo 5 gennaio dalle ore 15 fino a conclusione delle somministrazioni nocera superiore raggiunge invece l'85 per cento di prime dosi il 73 per cento di seconde dosi del 26 per cento di terze dosi il centro vaccinale presso la biblioteca comunale sarà aperto oggi dalle ore 15 a sarno lab vaccinale dell'ospedale martiri di villa malta riaprirà dal prossimo 6 gennaio mentre il punto vaccinale al teatro dell'ise ha ricominciato con le attività di immunizzazione il comune raggiunto l'87 per cento di popolazione vaccinata con prima dose il 75 per cento con seconda ed il 26 per cento con terza dose a san marzano su sarno è stato invece raggiunto l'89 per cento di cittadini vaccinati con prima dose il 76 per cento con seconda ed il 22 per cento con terza dose ciao ciao Grazie a tutti